Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Samu U Ora, come vedete, non siamo... Sì, siamo all'aperto E siamo In un picnic Picnic, sì, certo, vabbè, picnic Come Titi Stiamo facendo un pranzetto in famiglia C'è la maglietta di Samu U Se non l'avete notata Lasciate il dislike, no E oggi fare Farò una sfida epica La vedete? Questa è una tortiglia E questa è salsa piccante Se magari l'avete ancora capito Sto per fare una cosa molto strana State a vedere Che vuoi fare a vedere quello del pezzerone? La patatina rossa Vedremo la mia reazione al piccante Perché questa qui è una salsa che mi fa esplodere Metti c'è un goccino di vino La casa Questa è la scuola Che ti pare? No, no, è la scuola proprio No Voi non capite Voi non capite Voi non capite Voi non capite No, ragazzi Voi non capite cosa Cosa sto? Mi resta scuola unite È sparito? È sparito? Sì Ma lo fanno a posto a bere Il video finisce qui Spero anche voi avete assaggiato il piccante Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Ciao ragazzi